Il paradiso delle signore, venerdì 20 novembre 2020. Vittorio apprende dal ritorno di Beatrice a Milano solo da Pietro perché lei non glielo riferisce. Adelaide raggiunge la svolta e riesce a ottenere la cartella clinica di Federico che dimostra la reale paternità del ragazzo. Ormai la contessa è determinata a dire a tutti la verità ma Silvia, consapevole che l'abbia ormai scoperta, va da lei e l'affronta. Roberta decide di rinunciare alla sua carriera universitaria e di rimanere a Milano al fianco non soltanto di Marcello ma anche del paradiso a cui ormai estremamente legata. Intanto Gabriella dopo essere stata spronata da Salvatore riscuote l'approvazione di Vittorio e di tutti gli altri per i nuovi bozzetti che sta preparando. In caffetteria intanto le cose vanno per il meglio soprattutto grazie alla presenza di Laura che ha grandi idee ed è sempre estremamente positiva. Umberto infine messo con le spalle al muro da Adelaide non può fare a meno di confessarle la verità e ammettere di essere il papà di Federico. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!